qui al telefono si parla di che cosa del momento in cui è stato girato il video ed è un momento particolare che fa adesso dopo lo commentiamo lavorano anche il video guardate quando giravamo i video e in particolare quando silvia e ciro consumavano un rapporto sessuale lei non si è accorta che la stavano filmando e comunque abbiamo fatto tutto a sua insaputa sia i video che le foto preciso tuttavia che lei non è mai inquadrata in volto sia le foto che i video non sono mai stati inoltrate a nessuno forse solo una foto in cui comunque lei non appare in volto ma li ho mostrati al mio gruppo di amici direttamente dal mio telefono in particolare ho un unico video perché nell'altro si vede vittorio il quale è fidanzato con una ragazza del gruppo e per ragioni di convenienza non l'ho fatto vedere